Sparano, Federica. Sparano. C'è forse qualche novità. Mi stupirebbe. Le carte le puoi mescolare e rimescolare dicono sempre la stessa cosa. Guarda. Uno, due, tre, quattro, cinque. La regina. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Una donna cattiva. La riconosci, Federica? Uno, due, tre, quattro, cinque. Una ragazza ambiziosa. Edith de Berger. Uno, due, tre, quattro, cinque. Guai di denaro. Uno, due, tre, quattro, cinque. Un uomo cattivo. Salve, Conte di Ferro. Voi non mancate all'appello. Uno, due, tre, quattro, cinque. La morte. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ecco il ragazzo sul quale almanaccavamo tanto. Chi è, Ferry? Chi è? Un uomo cattivo. Panic!